Fino ad oggi abbiamo intervistato la giuria giovane, oggi sarà invece la giuria giovane a intervistare, a fare domande alla giuria ufficiale. Bene, noi siamo la giuria giovani e quindi inesperti totalmente e per la prima volta ci stiamo approcciando al cinema da un altro lato, dal punto di vista della critica. Quindi chiediamo a voi che siete professioniste, quali criteri utilizzate per giudicare questi film? Quali parametri avete? Grazie, grazie. Grazie a tutti. 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 che cosa è stata fatta, oppure quando una persona sta veramente cercando di dire qualcosa di nuovo, di originale e sta tentando di sviluppare un suo linguaggio. Bene, essendo arrivati alla 44esima edizione della Mostra Internazionale del Nuovo Cinema, volevamo sapere da voi come poteva essere inteso oggi il concetto di nuovo cinema. Per me, il n'y'a aucune conjonzione tra l'unico cinema ed il cinema fatto per dei giovani perché io trovo che, per esempio, c'è dei immenses realizzatori come Jacques Rivet, Eric Romer, come Scorsese o Coppola, io trovo che c'è molto più di giovane in loro ultimi film che, sempre, in dei filmi che sorti, come dire, che sorti di l'école. Quindi, io penso che c'è una sorta di ambiguità anche tra il cinema e il cinema dei giovani. Io trovo che, sempre, e c'è particolare, se si l'on pensa all'essor della video e del cinema numarico, quando pensiamo a una sorta di cinema in video e del digitale. Il y a qualcosa che mi frappe, c'è che, sempre, quando io vedo l'usage che dei giovani realizzatori fanno della video, quando vedo che dei giovani registi fanno la video, ma sempre l'impression, allora, io non ho parlato male della video, ma sempre l'impression che sono in seguito di fare le loro storia del cinema, ma sempre l'impression che sono in seguito di fare, di ripostruire una loro storia del cinema, e senza necessariamente avere, come dire... che, oggi, on passe all'inizio al fare, al fare del cinema, senza necessariamente avere la connessione, non encyclopendica, ma in tutto caso, historica, del cinema. E che, in quanto programmatrice di festival... Il nuovo cinema, secondo me, è un cinema che ha un rapporto con il suo passato, nel senso che è un cinema che tenta di fare delle cose nuove, rispetto, però, appunto, a un dialogo con quello che è già stato fatto. E, molto spesso, è vero quello che dice Gilles, che sono, in realtà, i più vecchi quelli che si mettono in questa relazione. E, però, poi penso anche che, dall'altra parte, stiamo vedendo una democratizzazione del cinema, nel senso che non è solo il fatto che ci sono, appunto, delle tecnologie che permettono di farlo sempre meno caro, ma permettono di farlo a delle minoranze in parti del mondo dove prima questo sarebbe stato impossibile. E questo, secondo me, è molto interessante, perché vuol dire che ci sono tutti nuovi discorsi che possono essere fatti, che, un po' di anni fa, quando si doveva sempre passare attraverso le cinematografie statali, eccetera, eccetera, non si potevano fare. Credo che sia necessario, almeno per me, come spettatore, vedere un film fatto da una persona che ha bisogno di fare quel film, cioè che ha un'urgenza di dire e di raccontare quella cosa. Altresì, credo che un'urgenza di raccontare qualche cosa sia un'urgenza che viene dalla vita, no? Da quello che uno sta vivendo. Difficile avere l'urgenza di raccontare una cosa che, come dire, che è lontana, che quindi sarebbe pretestuoso, no? Allora, direi che sia da una parte mi interessa molto e dall'altra direi che si può considerare nuovo quello che viene raccontato, appunto, con la necessità di farlo. perché non se ne può fare a meno. Abbiamo sentito dunque le parole delle giurie, ma i loro verdetti li sapremo soltanto domani. Ed è a domani che vi diamo l'appuntamento, sempre qui da Pesaro, sempre qui, su Close Up.